Tutta la storia dalle zone libere, da un punto di vista militare, è un'autentica follia. Una follia che tu la capisci da una parte, con il fatto che sei una variabile, una particina dentro la guerra grossa e che a un certo punto ti capita di interpretare questa parte. Prima considerazione, la seconda, ancora più decisiva, è che si tratta di una lotta armata che ha delle sovradeterminazioni politiche più importanti di quelle strettamente militari. Non a caso quindi sono in prima persona i comunisti e gli azionisti che sono particolarmente interessati sia alla sperimentazione e sia all'uso propagandistico che puoi fare di queste esperienze, perché sono quelli più interessati a disegnare attraverso la lotta armata rapporti di forza e progetti sul dopoguerra. Chi è meno interessato a farlo, chi è meno interessato a usare la lotta armata come elemento di rottura e di innovazione radicale è sostanzialmente assente da queste esperienze. Quelli che sono per le zone libere sono quelli che poi saranno per l'insurrezione. Quelli che sono assenti dalle zone libere come progettualità militare e politica sono quelli che poi l'insurrezione avrebbero fatto anche volentieri a meno che ci fosse. Da questo punto di vista potremmo anche definire le zone libere quando sono ricche di progettualità come un'anticipazione, cioè come un'insurrezione anticipata. Di fatto è anche l'idea che intanto che arrivi tu su un territorio, prima che ci arrivino gli alleati, finalmente potrei fare qualcosa che quando arriveranno loro non sarà più possibile. Teoricamente l'epurazione, ma teoricamente anche la sperimentazione di ridare in mano alla popolazione strumenti di democrazia eccetera. Rispetto a quelle circostanze storiche non era assolutamente pensabile poterlo fare realmente. Di fatto poi quante elezioni reali hai dentro questa esperienza che poi vai a chiamare persino repubbliche? Ancormeno proprio in quelle che diventano repubbliche con la R maiuscola. Io immagino che inizialmente sia stato dal punto di vista delle, chiamiamole truppe partigiane, sempre penso che sia stato un momento di ubriacante felicità, di autorealizzazione, rientri nei paesi o nelle zone che hai dovuto lasciare, hai finito di essere un latitante per certi versi, hai riconquistato. Naturalmente che arrivano da fuori, da lontano o se sono più vicine diciamo. Però io non sono convinto che sia stato in generale una convivenza molto serena perché in realtà come metteva spesso in luce Legnani nei suoi studi i problemi che i comandi partigiani, nella maggior parte dei casi o i CLN insediati dai comandi partigiani, ma poi di fatto spesso la distanza è più nominalistica che altro, cioè i problemi drammatici che hanno davanti sono i problemi della sopravvivenza fisica. Devi pensare al fatto che tagliati fuori dei rapporti tradizionali montagna, montagna, pianura, devi prima di tutto risolvere dei problemi immediati. Uno dei problemi massimi del rapporto tra popolazione civile e movimento partigiano è l'insistenza di un gruppo di uomini che fino a quel momento non c'era su un determinato territorio, così come la scarsità di risorse che viene accentuata dal fatto che se mi arrivano mille partigiani in più, io ho un addensamento di popolazione nel suo complesso su dei territori normalmente abbastanza poveri e questo può far precipitare ulteriormente i rapporti tra popolazione e partigiani e andare al governo nel momento più duro e quindi è assumersi una scommessa estremamente onerosa e molto coraggiosa naturalmente. Trovi tu il fatto che vengono meno gli organismi amministrativi normali, fa sì che in alcune zone per esempio, credo anche dell'Emilia, alla fine si discute se lasciare a testa dal CLN uno che è stato un po' d'està, perché la popolazione locale ti dice questa è una brava persona, sa fare, ha sempre fatto il bene della popolazione, prima c'erano i fascisti e adesso ci sono i partigiani, però bisogna organizzare una vita civile, i comandi partigiani funzionano di fatto da punto di riferimento e da punto di organizzazione anche della vita civile. L'importante è come lavorano in realtà, se sono bravi, se hanno una testa politica, se sono capaci di pensare prospetticamente oppure no. La domanda potrebbe essere riformulata così, in definitiva ne valeva la pena oppure no? Secondo me è una domanda insensata, perché se recupero il mio punto di partenza, se le zone libere sono il portato dello sviluppo della lotta armata dentro una guerra che è in corso, in qualche modo non potevi non farlo, questo andare ad occupare degli avamposti e già che c'eri anche provare a renderli politicamente proficui, che poi tu ci sia riuscito o no, dipende da moltissime circostanze locali, dell'intelligenza dei comandi partigiani, della maturità della popolazione del posto, delle condizioni economiche, climatiche, dalla fase della guerra nella quale si è inserito, sono infinite variabili.